Allora, segretario, perché manifestate oggi? Oggi siamo qua a manifestare la nostra solidarietà, quelle che sono le vittime di questa giustizia ingiusta che molto spesso tutela i criminali e mette in galera chi prova semplicemente a difendersi. Quindi lo slogan di oggi è quello della legittima difesa. Legittima difesa per tutti, libertà di difendersi per tutti. Senta, dovesse diventare sindaco, farebbe anche lei il patrocinio per chi si difende in casa dai ladri come bidonci? Beh, assolutamente sì. Questo proprio per ribadire il concetto che se lo Stato non tutela i suoi cittadini ma preferisce tutelare i delinquenti, allora ci dovrà essere un'altra istituzione, in questo caso il Comune, che fornirà il supporto legale a chi si difende in casa propria.